Benvenuti a questa nuova puntata di Avanti Insieme, un format per una stagione rinnovata che vede l'impegno congiunto di Fipsas e Fiops nell'affrontare una serie di questioni strategiche sul futuro della pesca sportiva e recreativa. Oggi affronteremo un tema strategico, quello delle barriere artificiali con funzione antistrascico e di nursery. Lo affronteremo con degli ospiti d'eccezione che andremo immediatamente a conoscere. Ed eccoci insieme agli ospiti di questa puntata di Avanti Insieme, realizzata con il nuovo progetto di comunicazione integrata Fipsas-Fiops. Gli ospiti di oggi sono Stefano Sarti, un carissimo amico. Ciao Stefano, buongiorno. Stefano, come sappiamo, è consigliere federale Fipsas, nonché vicepresidente del settore della pesca di superficie. E accanto a me anche il dottor Guido Beltrami, anche lui carissimo amico. Ciao Guido, buongiorno. Ciao Francesco. Guido è un libero professionista, un agronomo che ha però un PhD in acquacultura e con lui anche in passato ci siamo incontrati per affrontare quello che sarà l'argomento di oggi, ovvero il tema delle barriere artificiali. Infatti intorno alla questione delle barriere artificiali c'è una grande discussione, anche una discussione pubblica che si sta sviluppando. Queste strutture hanno infatti una funzione fondamentale sia per quanto riguarda la realizzazione di un ostacolo alla pesca illegale, in particolare allo strascico illegale, sia per quanto riguarda la funzione di nursery, che poi approfondiremo nei suoi dettagli. E la federazione, la Fipsas, da alcuni anni, attraverso l'impegno di Stefano e non solo, è arrivata a individuare il tema delle barriere artificiali come un tema politico-strategico su cui c'è un grande impegno. Sono molte le realtà progettuali che stanno prendendo corpo e vorrei che Stefano ce le inquadrasse in maniera generale. Parlandoci appunto di questo nuovo impegno della federazione, unito al sostegno politico anche della FIOPS su questa partita estremamente strategica per il futuro del nostro mare e soprattutto dei suoi ecosistemi. Sì, ti ringrazio Francesco perché hai fatto una bella introduzione, anche perché la federazione crede molto nelle barriere artificiali e nei dissuasori per la pesca illegale e professionale. Il progetto è partito molti anni fa, è partito molti anni fa con Guido, il primo progetto è partito su Marina di Carrara, sul quale stiamo lavorando, continuando a lavorare per renderlo esecutivo. Sono molti i progetti che stiamo seguendo. Il Consiglio federale mi ha dato un mandato per 5-6 progetti a livello nazionale, da concordare con il professor Beltrami, da portare avanti, da cercare di portare a conclusione. È un percorso molto in salita perché non è facile realizzare queste barriere. C'è gli aspetti politici, c'è da trovare le risorse. Sono molte le situazioni dove dobbiamo andare a cercare dobbiamo andare a cercare appoggi politici per mettere giù queste barriere sommerse. Diciamo che in questo momento le barriere sommerse principali dove stiamo lavorando è Marina di Carrara, poi abbiamo un'entrattura nella regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna ha già messo barriere sommerse in anni precedenti e ci ha chiesto negli ultimi incontri che abbiamo avuto, ci ha chiesto un aiuto per la gestione di queste barriere sommerse. Perché ci ha chiesto un aiuto? Perché le barriere sommerse non è solo un manufatto, e poi Guido lo spiegherà molto meglio, è un manufatto che viene messo giù e poi Nanursei per i pesci. Ma è molto più elevato il discorso. C'è bisogno di una manutenzione poi sulle barriere sommerse. E la federazione sulle barriere sommerse è dentro, è dentro, ci dentro completamente. Perché nella federazione, oltre alla pesca sportiva, c'è anche la parte subacquea, c'è la parte didattica. Per cui si riesce a fare, si riescono a andare a ripulire le barriere dal GOST delle reti, che oggi sappiamo che è un problema gigantesco quello del GOST. Poi vi è il continuo monitoraggio e queste sarebbero spese enormi, se dovessimo farle al di fuori del volontariato. La federazione su questo ci calza, credo che ci sia dentro proprio a piedi pari. Dicevo, oltre all'Emilia-Romagna, poi abbiamo un'entratura in Calabria, dove stiamo avendo i primi contatti adesso per cercare di portare avanti i progetti. E abbiamo avuto, dico, un'entratura fortissima in Sardegna, centrando nelle spiagge del Poeto la possibilità di mettere le barriere sommerse e le sue zone. Sono convinto che le barriere sommerse è il futuro, è il futuro della pesca ricreativa in mare, ma non solo, anche per ricreare quegli stocchitici che oggi sono parecchio in sofferenza. Ed è, secondo me, è la panacea, insomma, potrebbe essere veramente un punto importante per il mare. E infatti il tema della posizione di barriere artificiali con le funzioni che dicevamo è oggetto anche di un disegno di legge che è stato recentemente presentato e fortemente sollecitato dalla Fipsas e dalla Fiops, a firma dei parlamentari Cenni e Romano, nel quale è inserito un articolo che proprio agevola il percorso per la posizione di queste strutture, perché deve diventare un tema centrale nell'agenda politica dei ministeri, ma anche delle amministrazioni locali. Quindi, oltre ai progetti citati da Stefano Sarti, viene anche un altro che ci coinvolge fisicamente, perché noi oggi siamo in questo bellissimo scenario che, come vedete, non è lo studio di Italian Fishing TV, ma è una bellissima terrazza nella Baia del Quercetano a Castiglioncello, dove incontreremo anche, tra breve, gli amici dell'associazione Salviamo le Secche di Vada. Infatti, questo è l'ultimo progetto adottato dalla Fipsas. Sì, ti lasciavo apposta a te illustrarlo, perché giustamente è un progetto, questo speriamo prenda forma velocemente, perché veramente, non tanto sulle barriere, ma sui dissuasori, con me potrebbe dare, fare la differenza sulle barriere, sulle Secche di Vada. E tra poco ne parleremo con gli amici appunto dell'associazione Salviamo le Secche di Vada. Allora, Guido, tu sono molti anni che ti occupi del tema delle barriere artificiali, da un punto di vista progettuale, da un punto di vista anche ecosistemico. Allora, la prima domanda che ti porrei è quella di cercare di capire quella che è la funzione biologica, poi affronteremo anche alcuni aspetti di carattere tecnico, però la funzione biologica, che è la posizione di queste barriere, porta agli ecosistemi, magari parlandoci anche di alcune esperienze in Italia e in giro per il mondo. Certo. Parliamo di barriere artificiali. Diciamo che è un argomento abbastanza complesso. come diceva prima Stefano, anche ostico da comprendere, in cui entra in un settore, quello della pesca, dove la pesca professionale lo vede, l'ha visto in passato come un corpo estraneo e quindi che entrava a far parte del suo mondo, senza comprendere i benefici che poteva portare tutto questo. Diciamo che parlare di barriere artificiali è semplice ma complesso in questi termini. Quando si parla di barriere artificiali si introduce un qualcosa artificiale in mare, quindi occorre fare un discorso prima. Io non devo mettere nulla in mare che non abbia delle caratteristiche idonee a poter svilupparsi e quindi utilizzare queste barriere per creare un alimento che può essere utilizzato dall'uomo. Quindi alla base delle barriere artificiali c'è una certificazione ambientale. Occorre non mettere nulla in mare che non sia certificato e che abbia la possibilità di essere totalmente atossico per l'animale. E questo è importante perché molte volte si agisce con l'intenzione di fare qualcosa senza avere la capacità e si creano danni piuttosto che vantaggi. Poi si lavora a mare in questi termini, cioè la barriera deve essere qualcosa che permette di sviluppare il falling e di permette di sviluppare quindi la vita. Su questo si attecchisce la vita e dalla vita abbiamo lo sviluppo poi di catene trofiche che permettono di incrementare la biodiversità e di incrementare la biomassa. E qui abbiamo perso molti anni, io mi occupo di questo dal 2001 circa, quindi ormai sono quasi 20 anni e diciamo che è stata una scalata fino a raggiungere quello che poteva essere la struttura che aveva le caratteristiche migliori. Io in questo momento ho analizzato diversi sistemi e alla fine sto optando su qualcosa che grazie alla forma, grazie alla capacità di creare upwelling, upwelling vuol dire convogliare la corrente verso l'alto, dà la possibilità di avere un impatto molto positivo sull'ambiente. La barriera svolge poi diverse funzioni, oltre a quella che protegge l'ambiente, infatti serve a rinaturalizzare l'ambiente. Se noi guardiamo le nostre spiagge, ormai la Posidonia è a macchia di ghepardo, una volta era continua. Cosa vuol dire questo? Che la pesca strascica illegale l'ha distrutta e la sta distruggendo. Quindi che cos'è il Posidonieto? È l'habitat migliore dove moltissime specie riescono a svilupparsi, a trovare un habitat idoneo, a crescere e fanno parte quindi di una catena alimentare fondamentale. Distruggendo questo, noi distruggiamo gran parte della biodiversità del mare e da lì siamo partiti. Per farla breve, perché altrimenti vi terrei moltissimo tempo, le barriere devono avere queste caratteristiche. Non essere idonee per l'ambiente, quindi certificate. Avere la capacità di essere attraversate dalle correnti, sia interno che esterno. Avere la capacità di avere una superficie rugosa, quindi una superficie molto ampia, in grado di far attecchire il falling e permettere anche alla luce di penetrarvi. Tutti questi aspetti li stiamo mettendo in atto in questo momento, in questo progetto delle secche di Vada, dove io faccio un piccolo anticipo, avremo due punti, due piccoli punti, perché è inutile fare delle cattedrali, conviene fare delle cose che permettono di svilupparsi in base alle esigenze e alle risposte dell'ambiente stesso. In un punto si utilizzeranno delle barriere di produzione e in un altro punto faremo delle barriere di protezione all'antistrascico. Questo permetterà di comprendere bene che cosa accade in quell'ambiente e che cosa accade nel momento in cui io lo proteggo, perché nel momento in cui lo proteggo l'ambiente rifiorisce. Avete visto durante il lockdown, tutti si sono stupiti, ma il mare è cambiato, a Napoli le riprese del mare limpio e così accade anche quando noi proteggiamo con piccoli interventi il mare. La soluzione della barriera artificiale è l'unica via percorribile per recuperare un ambiente che abbiamo distrutto. Prima interveniamo e prima lo proteggiamo. Abbiamo avuto degli esempi importantissimi, portati avanti dall'Università di Pisa, dal professor Paolo Berni, che ha fatto dei monitoraggi, che ha permesso di comprendere che la biodiversità è migliorata e le specie alieni si sono allontanate quando io ho recuperato le specie autoctone, vuol dire le specie che normalmente sono presenti in quell'ambiente. E abbiamo visto il ritorno del cavalluccio marino. Quindi a questo punto è fondamentale cercare di gestire in maniera adeguata, e io sto seguendo diversi anche progetti per la piccola pesca costiera, oltre che per la pesca, diciamo, sportiva, perché questo è il futuro. Avremo delle sorprese interessanti, avremo un ritorno della gente che ama il mare, dei ragazzi, dei bambini, dei genitori, perché si potranno creare delle aree vicino a riva, quindi facilmente percorribili, in un ambiente che il mare comunque è un ambiente abbastanza ostile, e quindi che va sempre preso con le pinze, soprattutto per i ragazzi giovani. Avere la possibilità di esercitare la pesca sportiva, vicino, permetterà di creare un forte richiamo e un interesse notevole e dall'altra parte avremo una rinaturalizzazione dell'ambiente, perché quello che facciamo comunque migliora l'ambiente stesso e avremo delle sorprese molto, molto interessanti. Riusciamo quindi a immaginare la straordinarietà di un mare, di un ambiente, anche quello italiano, quello mediterraneo, nel quale in maniera diffusa si riuscissero a realizzare progetti come questo, di apposizione di tantissime barriere artificiali, suddivise per regioni, per ambienti, per tipicità. Riusciremo veramente a creare le condizioni per ripopolare il mare e per evitare gran parte dello strascico illegale, o se non altro per creare un'occasione di rispetto dei pesci dove si potrebbero andare a nascondere, a riprodurre, e quindi anche degli hotspot. È fondamentale in questo percorso l'input politico, perché i progetti sono importanti, però per arrivare amministrativamente alla conclusione del percorso vi sono tutta una serie di passaggi fondamentali che partono da un chiaro indirizzo politico che deve arrivare dalle amministrazioni locali per il tramite delle associazioni, che come l'associazione Salviamo le Secche di Vada e la federazione vengono introdotti, ma che poi devono essere recepiti dall'amministrazione comunale, dalla regione, e poi vivere tutta una serie di passaggi amministrativi. Seppure in maniera sintetica possiamo cercare di capire, anche perché tra i nostri ascoltatori ci saranno sicuramente tanti pescatori, tante associazioni, tanti amministratori che vorrebbero provare a intraprendere percorsi analoghi. Che cosa si deve fare? Questa è una bellissima domanda in questi termini. Ci sarebbe una cosa importante da sottolineare. Stanno per uscire i nuovi FEAMP 2020-2027, mi sembra che sia. Ricordiamo per i nostri amici che cosa sono i FEAMP. I fondi europei dedicati al mondo della pesca, principalmente al mondo della pesca professionale, ma anche della pesca ricreativa e sportiva, soprattutto ricreativa. Sarebbe opportuno che le associazioni anche della pesca ricreativa entrassero a far parte, come le associazioni di categoria della pesca invece professionale, all'interno della possibilità di intervenire attraverso i FEAMP, cosa che adesso è possibile marginalmente. Quindi sarebbe opportuno che ci fosse un affetto importante dedicata alla rinaturalizzazione del mare e non tanto a situazioni lontane dal mare. si sono finanziati, ad esempio, musei. Quello che interessa è che il mare non è un museo, è qualcosa da ricreare, da riportare, da riavvicinare. E quindi credo che sarebbe importante che questo denaro fosse in parte speso per questo, perché svolge un ruolo fondamentale per tutte le categorie. Quindi questo è un appello a chi in questo momento è nella sala dei bottoni, delle decisioni, perché lo stanno formalizzando adesso, che venga considerato questo aspetto protezione e rinaturalizzazione dell'abitato marino, che è un beneficio per la pesca, importante. Consideriamo che i pescatori in Italia sono poco più di 3.000, ma soprattutto a quelli che si avvicineranno al mondo della pesca, che sono invece milioni. E' questo che noi dovremmo affrontare con estrema attenzione e rigore. E' un appello molto importante, mi hai lanciato una palla perché ne parlavo ieri l'altro, che si sta appunto decidendo adesso di come investire questi denari che faranno parte di questi fondi per la pesca. Quindi è fondamentale un'attenzione importante in questo momento. Sì, Stefano? Sì, allora, bisogna tener conto che la legge, la comunità europea ha previsto che i fondi FEAMP vadano anche alle associazioni di pescatori sportivi ricreativi. Il problema è il recepimento ancora di questa normativa da parte dello Stato italiano, ma non solo, anche nelle regioni dove ci sono i finanziamenti. Perché è vero che poi i finanziamenti vanno attraverso i GAC, le varie sigle, flag, eccetera. Però sono un po' resti le amministrazioni a dare le risorse, a sponsorizzare progetti dei pescatori sportivi ricreativi. Tendono a finanziare i progetti dei pescatori professionisti. E qua lancio un appello, lancio un appello anche alle categorie di pescatori professionisti. Cercate di collaborare. Non possiamo trovare un muro per creare queste barriere. Collaboriamo insieme. E questo c'è bisogno che la politica guardi oltre quello che ha fatto fino ad oggi, senza chiusure e aprendosi completamente. I famosi tavoli blu delle regioni dove a questi tavoli ci troviamo tutti i pescatori professionisti con qualche biologo, con i sindacati e poi magari c'è solo un pescatore sportivo ricreativo a cercare di portare avanti questi progetti. Avremo bisogno di un po' di più di spazio. E proprio per questo tra poche ore parteciperemo qui a Rosignano a un incontro con l'amministrazione comunale presente le persone che sono qui e gli amici dell'associazione Salviamo le Secche di Vada proprio per portare avanti questo progetto. Un progetto molto bello a livello locale che andremo a conoscere meglio proprio con gli amici dell'associazione. Iuri Colombini è il segretario dell'associazione Salviamo le Secche di Vada di cui abbiamo parlato molto in questa puntata. Cerchiamo di conoscere le caratteristiche. Iuri, come nasce innanzitutto l'associazione Salviamo le Secche di Vada? Sì, siamo nati con un'esigenza di capire cosa potevamo fare per il nostro mare. Un gruppo di pesca sportivi e amici che si sono messi insieme per fare qualcosa per un degrado che diventava sempre più importante. Ci siamo domandati come potevamo agire ci siamo associati e ufficialmente nel 2016 è nata la nostra associazione una onlus che si chiama appunto Salviamo le Secche di Vada. Perché Salviamo le Secche di Vada? Salviamo le Secche di Vada perché ci siamo ispirati proprio alle Secche di Vada che sono non solo il nostro territorio ma sono una parte importantissima di un ecosistema che raramente troviamo all'interno del bacino del Mediterraneo specialmente in Italia per la loro conformazione fisica strutturale che hanno e per le biodiversità che portano all'interno della propria struttura. Dopo quindi alcuni anni di organizzazione avete iniziato a elaborare quello che è il progetto dell'associazione Salviamo le Secche di Vada anche da un punto di vista materiale e qui entrano poi anche in concorso diciamo professionisti che abbiamo conosciuto Guido Beltrami la Fipsas la Fiops ma parlaci un po' del progetto nella sua specificità. Il progetto è nato su un'ispirazione che abbiamo avuto seguendo un signore che come noi aveva bisogno di fare qualcosa per il proprio mondo e che si chiama Paolo Fanciulli questo signore abita a Talamone era un pescatore professionista e si è reso conto che non si poteva più vivere sfruttando ulteriormente il mare perché oggi non gli dava più quello che poteva prendere ieri e quindi la maniera di calare più reti o fare più strascichi per vedere di poter ottimizzare la giornata non era la maniera risolutiva che pagava esclusivamente nel breve tempo ma in un progetto a lungo periodo avrebbe impoverito sempre di più il proprio lavoro e il proprio ambiente. Quindi questo signore che cosa ha fatto? Da pescatore professionista ha fatto un tipo una sorta di pentimento di quello che aveva fatto fino a quel momento e si è adoperato per calare dei dissuasori in mare e ai tempi era un progetto piuttosto primitivo che trovava magari una realizzazione come diciamo più artigianale che tecnica che però ha portato dei grandi risultati. Noi ci siamo ispirati a... l'abbiamo conosciuto l'abbiamo cercato abbiamo cercato di capire quelle che sono state le iniziative che l'hanno portata a ragionare e più che altro abbiamo cercato di capire quelli che sono stati poi i vantaggi una volta che avesse dopo che praticamente questo progetto aveva perso corpo. Il progetto nostro è il progetto che si ispira appunto alla Casa dei Pesci il progetto di Talamone è un progetto che invece viene ricalcato sulle nostre secche secche che hanno un'importanza strutturale e architettonia immensa per come sono per come sono nate per come si sono formate nei tempi e che che hanno sempre creato un'attrattiva importante anche per i professionisti tant'è che le prime le prime colonie diciamo di pescatori professionisti qui da noi venivano da Napoli storicamente Napoli rappresenta una una marineria che è sempre vissuta di mare noi che cosa abbiamo visto abbiamo visto un indebolimento un impoverimento del nostro mare che non è stato una cosa graduale è stata una cosa che ha preso un'importanza diciamo ragguardevole negli ultimi anni e il picco della negatività si è concretizzato specialmente negli ultimi 4-5 anni dove le quantità di pescato e le dimensioni del pescato erano francamente ridotte ridotte quindi abbiamo sentito la necessità di poter intervenire e intervenire subito ci siamo rivolti a delle persone che abbiamo conosciuto stamattina e che si occupano di questo e stiamo cercando di portare avanti il progetto che già ha avuto uno step di regione però purtroppo non ha avuto non ha avuto gli esiti che speravamo ci riproviamo ripartiamo un'altra volta da capo speriamo che questa volta la sensibilizzazione politica visto che ambientale ce ne abbiamo già tanto che ci segue sono decine di migliaia di persone che ci seguono le nostre pagine e che ci supportano nel nostro progetto speriamo che la sensibilità politica questa volta ci venga in conto ma non tanto per noi quanto per il nostro ambiente perché noi logicamente facciamo cose per l'ambiente e non facciamo cose per la nostra Orlus davvero bello sì veramente bello il progetto dell'associazione salviamo le secche di Vada che è uno dei progetti su cui appunto dicevamo si sta lavorando però questo mi dà anche la Stefano per una riflessione c'è un impegno fortissimo che sta crescendo della federazione della FIOPS anche a livello di cultura generale su questo tema e quindi noi lanciamo anche un appello ai nostri amici che ci stanno seguendo di segnalare situazioni di provare a creare sinergie nei territori per far sì che questi progetti crescano diventino ancora di più perché è fondamentale anche l'input che parte direttamente dal territorio perché l'associazione nazionale può mettere a disposizione una serie di strumenti di risorse di professionalità di comunicazione ma bisogna che la questione come sul tema della pesca nei forti sia territoriale è basilare questa cosa è territoriale infatti l'associazione Seche di Vada che ringrazio per il fortissimo impegno che sta mettendo per questo progetto e mi auguro che altre associazioni in giro per l'Italia magari seguano questo esempio virtuoso e cerchino di portare avanti queste situazioni sono determinanti ma l'abbiamo questa cosa questa cultura sta aumentando perché l'abbiamo già visto anche a Ravenna che sta crescendo un'associazione un'associazione una SD in quel caso lì lo Sporting Fish in Ravenna un'associazione di Ravenna ci ha chiesto di intervenire per fare per portare avanti un progetto su Ravenna da cosa nasce cosa io mi auguro che ascoltandoci altri in altre zone d'Italia ci chiedano e magari ci telefonano come possiamo fare per a disposizione per queste cose assolutamente e quindi con l'auspicio che crescano e noi siamo a disposizione appunto segnalateci le esperienze come quelle dell'associazione Salviamo le Secche di Vada legate alla realizzazione di barriere artificiali con funzione di nursery ma anche antistrascico che andiamo a chiudere questa puntata che ha affrontato un tema molto interessante molto importante molto attuale si chiude qui la puntata di oggi di Avanti Insieme e come sempre Avanti Insieme insieme alla Fipsas alla Fiops nell'interesse della pesca sportiva e ricreativa e dei pescatori alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti